bello a tutti benvenuti sulle youtube in questo video andremo a fare questo game horror game opus castle un gioco pietato diciamo consigliato dai 16 anni in su quindi se avete paura o potreste aver paura vi consigliamo di non proseguire con la visione mi raccomando mettete un mi piace al video iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per non perdere i nostri video ma andiamo avanti allora eccoci qui ragazzi in questo video avete scelto quindi di andare ad esplorare le scale ok e la porta è chiusa non ci fa interagire cioè possiamo interagire ma non suona il gong la porta questa è chiusa dobbiamo salire le scale che al primo piano è rotto non c'è nulla qui c'è un comodino con oddio c'è la nebbia del fumo ok le porte sono chiuse qui pure tutto chiuso ok lì nel comodino si è aperto un cassetto quindi andiamo a vedere cosa c'è e si è accesa la luce da sola ok c'è piccolo oggetto deve essere la chiave per aprire le porte ma intanto andiamo un attimo così a vedere giù ok qui c'è questo fumo questa nebbia non si capisce allora adesso risaliamo le scale andiamo a prendere quella chiave deve aprire una delle porte che è lì molto sinistra questa nebbia oh oh devo correre devo correre ok a questo punto devo fare una scelta ragazzi quindi anche qui rilasciamo il video mi raccomando se il video vi è piaciuto un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti ciao a tutti